La Virtus Francavilla fino al 26 febbraio, 52 punti in 27 partite, posto fisso sul podio del girone C di Serie C, squadra rivelazione senza se e senza ma. La Virtus Francavilla dal 5 marzo al 24 aprile, mai vittoriosa, 4 punti in 9 partite, 18 reti al passivo e una discesa in sesta posizione. Due volti della stessa squadra, quella di Roberto Taurino, che ha comunque concluso la stagione andando al di là dell'obiettivo minimo fissato a inizio anno dalla società. Una salvezza senza patemi dopo quella ottenuta a 180 minuti dalla fine nella scorsa annata sportiva. È innegabile però come negli ultimi due mesi Maiorino e compagni abbiano innestato una pericolosa discesa, avviata dopo quella sconfitta nella pioggia e in pieno recupero del 5 marzo sul campo del Bari. Da quel gol di Citro la Virtus ha cominciato a viaggiare in retromarcia, passando da una media di quasi due punti a partita a quelle inferiore al mezzo punto per gara. E dopo il derby pareggiato contro il Foggia nella penultima giornata, la società ha scelto la via del silenzio, un'opzione sposata per risolvere i problemi in famiglia senza però approdare a una svolta. I quattro gol presi domenica sul campo della Juve Stabia sono ancora ferite in presse sulla pelle di una squadra che ora guarda i play-off come uno spazio per ritrovarsi. Per farlo, la Virtus, complice la miglior classifica, avrà a disposizione due risultati su tre nella prima partita della fase a gironi contro il Monterosi, avversario arrivato al nono posto nel girone C ma che ha svoltato nel girone di ritorno. La sfida è in calendario domenica, primo maggio alle 17 e si prospetta però ben diversa rispetto a quella giocata alla nuova Redo Arena il 5 dicembre e vinta per 1-0 dalla squadra di Taurino grazie al centro di Leonardo Perez che mise fine a un digiuno personale lungo 246 giorni. Domenica serve la svolta e il mantra che risuona in questi giorni nello spogliatoio bianco celeste. Sei mesi fa Perez, a segno poi altre tre volte in stagione, trovò contro il Monterosi quella personale. Ora la Virtus, contro lo stesso avversario, va alla ricerca di quella di gruppo.